L'avvocato Giandonato Morra, candidato sindaco a Teramo nelle ultime amministrative che negli anni passati ha ricoperto anche il ruolo di assessore regionale trasporti e il nuovo difenso recibico della regione Abruzzo. A nominarlo con proprio decreto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, visto che l'assemblea non era riuscita a farlo entro i tempi fissati. Beh sì, è un ruolo importante, un ruolo imparziale a garanzia dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, con gli enti locali, con la regione e gli enti locali di riferimento della regione Abruzzo. È un ruolo che presuppone imparzialità, asetticità e in tal senso io voglio operare. Ringrazio chi ha pensato alla mia persona per questo incarico. Io già ho preso contatti con gli uffici competenti, mi hanno già chiamato alcuni difensori civici di altre regioni e inizieremo questo nuovo percorso con rinnovato impegno. Qual è il suo primo obiettivo? L'obiettivo è continuare a lavorare sicuramente sulla falsariga. La prima cosa da fare, lo farò oggi pomeriggio, troverò il suo numero, devo chiamare il difensore civico che era in carica fino a ieri, l'avvocato Fabrizio Di Carlo, perché voglio incontrarlo, per una consegna, per salutarlo, per farmi spiegare l'operatività, le criticità per quello che lui ha visto in Abruzzo. L'obiettivo è continuare a lavorare seriamente, però con rispetto e con il garbo per il lavoro fatto da tutti. Incarico che è arrivato dopo la lunga discussione interna al centro-destra, che ha prodotto continui rinvii sulla nomina. Si sia allungata non per la mia persona e credo, anzi tengo a dire, che questo è un ruolo tecnico, non rientra negli incarichi politici. Probabilmente è stata una fase di, come si può dire, di dialettica forte nell'ambito del centro-destra, che ha portato a soprassedere per alcune nomine. Però questa era la meno politica ed è un ruolo che con la politica non ha nulla a che vedere.